Nuova puntata di quelle che sono le news del doc, le news della settimana che andremo a riepilogare sono delle notizie che chiaramente ci hanno coinvolto da un punto di vista cinematografico proprio durante i giorni scorsi e che voglio quindi condividere con voi però prima di iniziare io come sempre vi ricordo rapidamente i modi che avete per supportare il mio canale innanzitutto iscrivendovi se non l'avete ancora fatto perché è fondamentale per aiutarmi a farlo crescere ancora di più attivate la campanella per non perdervi neanche uno dei prossimi contenuti e poi infine se il video vi sarà piaciuto supportatelo ulteriormente lasciando un like condividendolo ovunque vogliate e poi andandola anche a commentare con le vostre opinioni chiaramente qui sotto tra i commenti vi leggerò e vi risponderò come sempre volentieri poi date un'occhiata anche in descrizione perché troverete altri modi per supportare il mio canale uno su tutti un link a amazon da poter utilizzare per fare qualunque vostro acquisto ma detto questo io direi di buttarci a capofitto in quello che è la rassegna delle notizie cinematografiche che appunto sono state diffuse, sono state distribuite in questi giorni notizie più o meno variegate, ci sono diversi trailer per esempio che sono usciti vedremo, si è avuta la celebrazione anche dei nastri d'argento quindi una manifestazione, una premiazione cinematografica italiana ma io direi innanzitutto di partire da come sempre una curiosità che appunto è stata resa nota nei giorni scorsi a quanto pare per il film Harry ti presento Sally uno dei più importanti film sentimentali, romantici, uno dei più grandi cult degli ultimi 40 anni oserei dire per questo film che chiaramente sappiamo ha come protagonisti da una parte McRyan e dall'altra parte Billy Crystal beh in realtà non doveva essere Billy Crystal il protagonista del film ma a quanto pare inizialmente la scelta era come dire caduta su Tom Hanks che chiaramente in quel periodo era anche lui particolarmente come dire in voga anche per quanto riguarda i film commedia, i film romantici basti pensare che anche con la stessa McRyan Tom Hanks in quel periodo realizzò diversi film e Tom Hanks però rifiutò quindi decise di non prendere parte a Harry ti presento Sally questo perlomeno è quello che si racconta e la scelta per questo motivo quindi cadde poi su Billy Crystal non me ne voglia il caro vecchio Tom Hanks però devo dire che una coppia come quella tra Billy Crystal e McRyan in Harry ti presento Sally difficilmente avrebbe avuto degli uguali poi non sappiamo come le cose sarebbero andate questo è un gigantesco what if come si suol dire però ogni volta che io guardo Harry ti presento Sally non riesco ad immaginarmi nessun altro che potesse interpretare Sally da una parte ma anche chiaramente Harry dall'altra quindi Billy Crystal e McRyan però ecco era una curiosità chiaramente Tom Hanks poteva diventare la star di questo film e così non è stato un'altra notizia che è stata distribuita in questi giorni è relativa al regista Guillermo del Toro Guillermo del Toro ricordiamolo che recentemente ha avuto la possibilità di vincere non lui direttamente ma il suo film Pinocchio ha vinto il premio Oscar come il miglior film d'animazione proprio relativamente al genere d'animazione infatti Del Toro si è espresso in maniera abbastanza chiara perché secondo lui diciamo che la sua carriera potrà prevedere nel corso dei prossimi anni non più di altri due o tre progetti cinematografici in live action dopodiché vorrebbe dedicarsi interamente proprio al cinema d'animazione ed io il pensiero che subito come dire mi faccio in qualche modo il pensiero che subito arriva alla mia mente se il risultato deve essere quello che abbiamo avuto nel suo Pinocchio beh non vedo l'ora che Guillermo del Toro si dedichi completamente al genere d'animazione perché il suo Pinocchio è un capolavoro senza se e senza ma io l'ho considerato il miglior film dell'anno scorso è davvero un'opera d'arte un gioiello che io vi consiglio di recuperare se non l'avete ancora visto perché davvero Guillermo del Toro ha dimostrato ulteriormente di essere un grande artista e probabilmente ha una sensibilità con il genere d'animazione che gli potrebbe permettere davvero di realizzare grandissime cose in futuro quindi chissà magari appunto la cosa potrà comincerà ad avvenire il prima possibile ed io me lo auguro per quanto riguarda appunto le notizie della settimana ricordiamo anche come dicevo poc'anzi l'uscita in questi giorni di diversi trailer innanzitutto è uscito il primo trailer di Kraven il cacciatore chiaramente è un film che appartiene all'universo di Spider-Man è un film che devo dirvelo sinceramente chi mi segue da un po' di tempo lo sa non credo andrò a vedere non credo che avrò l'interesse di recuperare perché comunque non ho grandissima voglia di approfondire quelli che sono i villain di Spider-Man per quanto Spider-Man sia chiaramente uno dei personaggi che preferisco nell'ambito dei fumetti però non è un film che metto tra le mie priorità un altro trailer che è stato distribuito davvero in queste ore in questi giorni è quello di Challengers nuovo film di Luca Guadagnino che dovrebbe arrivare nelle sale a partire da questo autunno poi staremo a vedere se il tutto verrà confermato o meno un film che presenta tra gli altri come protagonista Zendaya per quanto riguarda il film racconta da quello che si legge la storia di tre tennisti questa donna e altri due che si in qualche modo approfondiscono quella che è la loro amicizia che poi si trasforma anche in qualcos'altro lungo gli anni poi accade anche che la donna appunto la protagonista interpretata da Zendaya si infortuni e poi le cose andranno a cambiare staremo a vedere il trailer devo dire non mi ispira granché perché mi fa in qualche modo respirare un'atmosfera da Luca Guadagnino dei primi tempi una sorta di atmosfera alla Melissa P ecco per intenderci però è ovvio Luca Guadagnino ormai è un regista affermato maturo io purtroppo devo ancora recuperare Bones and All in questo momento quindi è una lacuna che ancora mi porto dietro ma staremo a vedere chiaramente che cosa sarà in grado di offrirci con Challengers e un altro film del quale è stato distribuito il trailer proprio in queste ore è Priscilla nuovo film di Sofia Coppola un film targato A24 tra l'altro quindi già questo dovrebbe essere come dire sinonimo di qualità una garanzia chiaramente per quanto riguarda la qualità del film è un film che infatti racconta quella che è la storia di Priscilla Presley quindi la moglie di Elvis Presley che si vede anche tra l'altro nel trailer staremo a vedere chiaramente in che modo Sofia Coppola scusate avrà deciso di raccontare questa storia anche con Sofia Coppola bisogna sempre cercare di muoversi come dire in maniera in maniera delicata perché non si sa mai che cosa sarà in grado di portare sullo schermo questa regista e che ricordiamolo durante gli esordi quelli che sono stati i suoi primi anni ci ha regalato delle grandi opere tra cui per esempio Lost in Translation ma nel corso degli anni qualche film secondo me l'ho anche sbagliato però staremo a vedere chiaramente per quanto riguarda Priscilla tra l'altro da amante dei film biografici questo sì lo attendo con discreta curiosità un'altra notizia di questi giorni è anche la notizia relativa alla scelta da parte di Ficarra e Picone di quelle che saranno le protagoniste femminili di quello che sarà il nuovo film che li vedrà tra l'altro anche loro tra i protagonisti e le protagoniste saranno Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta due volte ormai diciamo abbastanza noti anche al grande pubblico Maria Chiara Giannetta soprattutto anche per quanto riguarda la sua esperienza televisiva per quanto riguarda Don Matteo se non ricordo male perché io non lo seguo ma dovrebbe essere la protagonista di Don Matteo una delle protagoniste ma in realtà anche a livello cinematografico è Barbara Ronchi soprattutto in questi ultimi giorni barra settimane sta davvero acquistando una popolarità che secondo me merita tra l'altro perché ha vinto il Davide Di Donatello per la sua prova nel film Settembre di recente davvero in questione di giorni fa ha vinto anche il Nastro d'Argento per quella che è la sua prova nel film Rapito quindi chiaramente due attrici che secondo me sono molto valide o un debole per Barbara Ronchi proprio perché finalmente si sta riconoscendo in maniera unanime quella che è la sua bravura quindi saranno loro le protagoniste del nuovo film di Ficarra e Piccone proprio per quanto riguarda i Nastri d'Argento appunto nei giorni scorsi si è tenuta la manifestazione la premiazione per quanto riguarda questa importante cerimonia ne ho parlato in un video che vi consiglio di recuperare l'ho pubblicato proprio ieri nella serata di ieri la giornata di ieri è stata particolare perché ho voluto pubblicare due video nello stesso giorno ma non volevo attendere oltre nel parlare dei Nastri d'Argento quindi per un commento nel dettaglio di quella che è stata la cerimonia di quelle che sono state le vittorie vi rimando proprio al video pubblicato ieri sera ed eventualmente ci scambiamo qualche opinione proprio nei commenti di quel video bisogna solo dire dico soltanto qui in maniera rapida grande trionfo per il film Rapito di Marco Bellocchio ed io me lo aspettavo perché è davvero un'opera d'arte non come dire in queste settimane non ho avuto modo di definirlo in altro modo è un'opera d'arte che io vi consiglio anche di recuperare se lo trovate al cinema ancora perché davvero non ne rimarrete delusi per quanto riguarda queste ultime settimane ricordiamo anche che su Netflix in questi giorni in realtà è uscito Tyler Rake 2 film con Chris Hemsworth il secondo capitolo di quello che ormai si sta per configurare come un franchise chissà se ci sarà il terzo capitolo io questo secondo capitolo ancora non l'ho visto spero di poterlo recuperare a breve il primo capitolo però mi era piaciuto parecchio io all'epoca credo di averne anche parlato qui nel canale quindi il primo capitolo io vi consiglio di guardarlo era un film molto godibile niente di trascendentale ovviamente niente di particolarmente eccezionale ma riusciva ad intrattenere riusciva anche a far stare sulle spine lo spettatore per quella che era la storia che vedeva come protagonista questo personaggio appunto interpretato da Chris Hemsworth il secondo capitolo è uscito e ne sto sentendo parlare anche abbastanza bene soprattutto da un punto di vista registico ci sono delle sequenze molto interessanti staremo a vedere appena lo recupererò eventualmente ne parliamo qui nel canale se lo avete già visto fatemi sapere chiaramente nei commenti la vostra opinione poi vi voglio anche ricordare quanto è successo nei giorni scorsi e cioè la presenza di Tom Cruise qui in Italia a Roma per la presentazione di quello che è il nuovo capitolo di Mission Impossible Mission Impossible Dead Reckoning parte 1 che vi ricordo dovrebbe dovrebbe essere la prima parte dell'ultimo dell'ultimo capitolo appunto di Mission Impossible della saga di Mission Impossible perlomeno la saga che ha come protagonista il personaggio di Hitan Hunt e poi in realtà nelle scorse ore si è cominciato anche a come dire a spargere la voce riguardante la possibilità che in realtà questa saga non stia andando verso la conclusione però è chiaro bisogna aspettare come dire i prossimi anni perché il primo capitolo cioè la prima parte di quest'ultimo capitolo arriverà nelle nostre sale a luglio se non ricordo male e poi ci sarà la seconda parte verosimilmente o l'anno prossimo fra due anni e poi staremo a vedere io tra l'altro Mission Impossible l'ho recuperato per intero come saga come franchise proprio nelle settimane scorse quindi spero di andare a vedere questo al cinema anche perché sarebbe il mio primo film di Mission Impossible al cinema quindi saremo a vedere eventualmente ne parleremo un'altra importante notizia che è stata distribuita in questi giorni è relativa a quello che è l'incasso che sta avendo il nuovo film della Disney Pixar e cioè Elemental perché? perché a quanto pare si sta configurando come un grande flop un grande flop al box office era un flop che in tanti avevano anche previsto non so spiegarmelo in questo momento ci sarà modo eventualmente di approfondire però a quanto pare non è che le cose stiano andando per il verso giusto come sempre in questi casi bisogna anche capire se magari sia il periodo non particolarmente propizio l'inizio dell'estate per lo meno oppure l'idea che magari questo film a breve comunque arriverà su Disney Plus staremo a vedere anche questo ma da quanto si capisce appunto i risultati non stanno in qualche modo rispecchiando le aspettative dei produttori per lo meno da un punto di vista economico da un punto di vista appunto degli incassi poi in realtà il film da quello che leggo dovrebbe essere comunque un film più che buono perché viene consigliata comunque la visione però è chiaro che l'aspetto artistico non sempre va di pari passo con l'aspetto economico e con gli incassi al box office come dicevo poc'anzi e chiudiamo questa puntata dedicata appunto alle news della settimana una puntata forse un po' più breve del solito ma non ci sono tantissime news da dover commentare ma l'ultima che voglio prendere in considerazione riguarda anche in questo caso la Pixar perché all'orizzonte c'è la possibilità che venga realizzato il nuovo capitolo di Toy Story dopo il Toy Story 4 di qualche anno fa quindi dovrebbe essere realizzato il Toy Story 5 e tra l'altro è stata confermata la presenza in questo nuovo capitolo di tutti quelli che sono i protagonisti della saga di Toy Story quindi soprattutto i protagonisti storici mi viene da pensare Woody Buzz Lightyear io non mi voglio pronunciare diciamo in questo momento perché è troppo presto però la mia idea su Toy Story l'ho espressa più volte perché? perché secondo me la saga si doveva fermare col terzo capitolo per tutta una serie di motivi si doveva fermare perché la conclusione di quel terzo capitolo era la perfetta conclusione di una saga che ci aveva accompagnato per tanti anni e si concludeva in una maniera straordinariamente perfetta commovente emozionante davvero strappa lacrime ti si lacera il cuore al pensiero di quel finale ma era il finale giusto non l'hanno voluto tenere così hanno deciso di andare avanti con Toy Story 4 che infatti per me non è un film convincente non mi ha mai entusiasmato più di tanto e da Toy Story 4 era facile prevedere che poi la strada continuasse ad essere battuta infatti dovrebbe arrivare Toy Story 5 non so che cosa aspettarmi non so più che cosa sperare con Toy Story staremo a vedere eventualmente se dovesse davvero uscire lo si guarderà e lo si commenterà quindi volevo chiudere questa puntata delle news proprio con un brand diciamo una saga molto importante che ha accompagnato anche diverse generazioni perché ricordiamolo il primo Toy Story è il primo film della Pixar ormai di una trentina di anni fa all'incirca eravamo negli anni 90 quindi staremo a vedere appunto con il quinto capitolo che cosa saranno in grado di fare quindi fatemi sapere che cosa ne pensate di queste news fatemi sapere se c'è qualche notizia che vi attira maggiormente se avete altre notizie anche che avete letto che avete ascoltato e che volete commentare tutto chiaramente scrivetelo qui sotto nei commenti perché vi leggerò e vi risponderò molto molto volentieri io come sempre vi ringrazio per il tempo che decidete di regalarmi ogni volta guardando i miei video vi ricordo fondamentale davvero iscrivetevi al canale per aiutarmi a farlo crescere ancora di più e questo è davvero importante stiamo veleggiando verso l'obiettivo dei 7000 iscritti quindi cerchiamo di raggiungerlo il prima possibile vi ricordo di attivare la campanella per non perdervi neanche uno dei prossimi contenuti per supportare questo video lasciate un like commentatelo come vi ho detto condividete fate tutto quello che desiderate e in descrizione trovate la mia wishlist Amazon se volete farmi un regalo magari aiutandomi ad ampliare la collezione che vedete alle mie spalle un link Amazon da utilizzare per fare qualunque vostro acquisto perché voi non spenderete un centesimo in più ma una piccola parte della vostra spesa sarà girata da Amazon al sottoscritto ed infine tutti i miei altri canali social nei quali seguirmi quindi Twitter Telegram Instagram così come anche Facebook noi ci becchiamo in un prossimo video in una prossima video recensione in una delle tante rubriche che sto portando avanti nel mio canale ovviamente l'appuntamento è anche alla settimana prossima per le news del doc quindi andremo a commentare tutte le notizie che coinvolgeranno il mondo del cinema da qui ai prossimi giorni io come sempre vi auguro anche una buona continuazione di giornate e ci vediamo presto ciao a tutti